Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale, nel giorno del silenzio, inseguendo fascisti che per fortuna, non ci sono più. Lo scrive Matteo Salvini sui suoi profili social postando un video della manifestazione dei sindacati di oggi a Roma, il leader della Lega poi cita Leonardo Sciascia, il più bel esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi, è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è. Grazie